venerdì 13 novembre buongiorno vi ritrovati con l'informazione da trg andiamo a sfogliare anche stamane i quotidiani quotidiani che aprono con la notizia di cronaca in particolare legata alla pronuncia della cassazione sul condanna dei tre rumeni per l'omicidio rosi il bancario perugino che venne ucciso in maniera brutale a ramazzano nella sua abitazione abitazione dei genitori nella primavera di tre anni fa un agguato tragico e i tre sono stati condannati all'ergastolo in primo grado condanna confermata in secondo grado ed ora anche in cassazione apre su questo la nazione umbria nel dorso regionale con la foto proprio della vittima che si lanciò coraggiosamente contro i banditi per salvare la fidanzata che era entrata per così dire nel mirino delle belve ucciso dalle belve amazzano nel bancario durante una rapina a ramazzano confermati in cassazione i tre ergastoli ai killer rumeni l'apertura però del quotidiano perugino anche su gesenu il giallo dei codici tarocchi l'accusa trattamenti fittizi per trasformare la tipologia di rifiuti e spendere meno un'altra vicenda tragica più recente di quest'estate legata al cocorico torna in auge perché? Perché riapre il cocorico ma vietato ai minori e alla discoteca in cui morì il sedicenne Tifernate Lamberto Lucaccioni e c'è polemica politica intorno alla Marini soprattutto i 5 Stelle che mettono nel mirino le sue pensioni da parlamentare ma anche quella futura da dirigente di Lega Cop nel blog di Grillo la pensione della Marini che dunque come dire assurge ai onori della cronaca nazionale matrimoni in forte crisi uno su tre va a Rotoli le statistiche Umbre poi meningite killer a Terni donna ricoverata muore a Terni era una maestra di 45 anni ovviamente profilassi per tante persone l'altra faccia della sanità buona sanità il cuore verde sorride positivi risultati per efficienza e livelli essenziali d'assistenza anche se vedremo anche altri titoli di tenore diverso su altri quotidiani addio ex tabacchificio qui siamo a Perugia riconversione la demolizione dell'ex tabacchificio di via cortonese Perugia lascia spazio all'edilizia residenziale poi rifiuti Gesenu la prefettura assicura che il commissariamento non toccherà raccolte dipendenti tutele per servizio e lavoratori e poi slitta l'attivazione dei varchi ZTL a Foligno mentre sempre a Perugia condanna definitiva per l'omicidio Rosi in richiamo alto e da Spoleto violenza sessuale sulla figlia si difende il padre accusato una vicenda decisamente turbida santo padre carica serve la quadratura ma il Perugia è forte dice il presidente alla vigilia della gara del del duca di Ascoli siamo al giornale dell'Umbria come ormai di consueto l'apertura addirittura internazionale restati 17 giadisti 7 di questi in Italia e poi boom delle unioni civili mentre diminuiscono i matrimoni un trend che riguarda anche la nostra regione di spalle richiami regionali da Perugia caso Gesenu regione comuni convocati dal prefetto omicidio Rosi confermate le condanne tra i rumeni dipendenti comunali a fine mese il nuovo contratto e da Foligno traffico varchi elettronici a partire da marzo mentre la città di Castello che vedremo anche nel nostro sito tra poco festeggia oggi il suo patrono San Florido via libera al centro per l'arte contemporanea questo per il giornale dell'Umbria e andiamo al messaggero che apre invece su Gesenu l'azienda si spacca il comune ai privati cambiate l'amministratore indagato saltano tutti gli accordi intanto il prefetto annuncia commissario per gli appalti e far funzionare i servizi intanto la Guardia di Finanza accende riflettori sulle società sportive soprattutto dilettantistiche fatture fasulle nel mirino delle fiamme gialle non c'è solo l'inchiesta chiusa con 26 indagati altri accertamenti in vista e poi una triste confessione purtroppo triste realtà di tutti i giorni a Perugia a Ponte San Giovanni un residente dice vedo ogni giorno spacciare droga davanti alle scuole di spalla la sentenza a Cassazione sull'omicidio Rosi e poi furti allerta continua ecco le ore di punta a Perugia le statistiche da Polizia Carabinieri indicano nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 21 al di là di quello che ci si potrebbe attendere un picco nei raid necessario alzare le difese intanto arriva il super sconto per Natale già in fila 50 negozianti a Perugia c'è il piano per le feste in centro infine il meteo con Gilberto Scalabrini novembre mite si prosegue insomma continuano le temperature decisamente fuori stagione per questo periodo un'occhiata la diamo prima di sfogliare i quotidiani e di vedere il nostro sito anche alle pagine nazionali la nazione che richiama in prima pagina la sentenza sull'omicidio di Rosi uccisero Luca Rosi e Ergastoli confermati ma c'è anche la vicenda davvero surreale di Firenze interviene anche il ministro Giannini mostra vietata ai ragazzi una scuola non ha portato i ragazzi in una mostra perché c'erano immagini artistiche che riproducevano il Cristo in croce e temevano di turbare la suscettibilità dei non cattolici siamo ormai veramente fatecelo dire alle comiche il ministero invia gli ispettori l'imamma di Firenze sconfessa i prof a più buon senso di loro andrò a vedere la bellezza divina dice e andiamo al sole 24 ore che in edicola col giornale dell'Umbria ci parla di tasse locali caos sul salva delibere sia la sanatoria delle decisioni su i mutasi tari e irpef approvati in 866 comuni dopo il 30 luglio oggi il decreto con 80 milioni per il dopoexpo e fondi per il giubileo ma qual è la morale che tra governo e comuni tra i due litiganti perde il cittadino che probabilmente dovrà ritrovarsi a pagare qualcosa in più per questi ritardi lasciamo dunque le prime pagine abbiamo visto intravisto il nostro sito lo vediamo più nel dettaglio perché? Perché la notizia lanciata ieri sera che oggi troviamo solo nella nazione riguardo all'ex sirio ecologica di Gubbia ha segnato infatti ieri il primo lotto all'asta che non è andata deserta come in passato ancora ignoto l'assegnatario si tratta di un'asta a base 548 mila euro comprendente immobili e macchinari per l'azienda di rifiuti ma dalla prima pagina vediamo anche nella politica la questione della Marini le cosiddette turbopensioni della Marini i 5 Stelle stanno attaccando in maniera abbastanza vemente la Presidente della Regione che finisce anche nel blog di Beppe Grillo dopo le critiche lanciate dal capogruppo regionale Liberati in basso troviamo il lancio invece del se scendiamo ancora della diretta di oggi è il giorno della festa del Santo Patrono San Florido a Città di Castello e noi trasmetteremo a partire dalle 18 in diretta il Pontificale su TRG2 canale 211 Pontificale che andrà in replica alle ore 22 sul canale 11 ci siamo andiamo a sfogliare i quotidiani iniziamo dal Corriere dell'Umbria e dalle pagine regionali con il quotidiano diretto da Anna Mossuto e con la Gesenu da ripulire così il titolo scelto per questa mattina prima pagina regionale ma servizi e lavoro saranno garantiti in prefettura il summit fra tutte le amministrazioni interessate si marcia a spediti verso il commissariamento della società va avanti il braccio di ferro sulle nomine il comune attende la proposta di un altro nome per l'amministratore delegato i grandi gruppi restano alle porte e poi il matrimonio che continua a non piacere secondo l'Istat crolla il numero dei riti in Umbria ma è una tendenza un po' in tutta Italia e sarà affidato invece a Trenitalia l'ex FCU manutenzione dei binari più corse la marina in commissione regionale conferma l'operazione disco verde al tram treno e speriamo che significhi questo ad esempio risolvere i problemi che riguardano soprattutto l'Alto Tevere con la tratta città di Castello Sansepolcro che in maniera assurda è stata interrotta demolito l'ex tabacchificio siamo a Perugia il complesso di via cortonese raso al suolo ora il progetto per 128 alloggi un supermercato le immagini delle un po' spettrali diciamo della zona che è stata ridotta a una sorta di ground zero e poi omicidio rosi ecco le condanne definitive il dramma del giovane bancario in Cassazione appena confermato una consolazione per la famiglia che si era costituita a parte civile con il comune di Perugia al pronto soccorso i tempi sono che una mattina sul posto fa emergere rispetto dei temini previsti che si dilatano solo per garantire la priorità delle emergenze è stato un test che il Corriere dell'Umbria ha voluto effettuare rispetto alla normale tempistica e sono piccole indagini che fanno bene anche per tenere alta l'attenzione attenzione anche sulla violenza alle donne si avvicina il 25 novembre giorno che è stato come dire individuato per sensibilizzare contro la violenza sulle donne troppa violenza contro le donne ecco come colpire un aggressore testimonianze e dimostrazioni pratiche all'incontro dedicato ad un tema molto sentito questo per quanto concerne le pagine di Perugia del Corriere dell'Umbria lasciamo il Corriere andiamo al giornale anche qui ripartendo dalle pagine regionali ma ancora dalla Gesenu dare continuità al servizio lo dice l'assessore Cecchini al prefetto che garantisce piena collaborazione e poi sempre dal giornale dell'Umbria omicidio rosico danne confermate la cassazione al gasto dei tre rumeni 20 anni al basista educazione finanziaria in classe con il libanese l'iniziativa organizzata da Unicredita coinvolto l'iter Capitini di Litet Capitini di Perugia in comune c'è lo sprint sul contratto dei dipendenti a fine mese arriva anche la è attesa anche la firma questo per quanto riguarda Palazzo dei Priori poi vedremo ovviamente le pagine dei comprensori andiamo alla Nazione anche qui ripartendo dalle pagine regionali il codice tarocco per smaltire a costi ridotti siamo sempre in casa Gesenu e l'inchiesta che scotta così la definisce il quotidiano fiorentino certamente in 12 aziende per capire cosa conferivano a Gesenu secondo gli agenti della forestale trattamenti fittizi per trasformare i rifiuti comune intanto fa le barricate sul nuovo amministratore delegato i privati si prendono una notte di riflessione per l'eventuale cambio e parliamo di coco ricco perché riapre la discoteca nel mirino della critica per usare un eufemismo dopo la morte di Lamberto Lucaccioni il giovane Tifernate che a causa dell'assunzione di una dose di estasi ha perso la vita la scorsa estate parla il presidente dei locali da ballo che dice no al proibizionismo è Enzo Muscinelli che abbiamo avuto ospite nei nostri studi proprio nella prima puntata di Link di quest'anno lo scorso settembre Ergastolo alle belve il sigillo della Cassazione qui siamo al caso Rosi i genitori erano presenti a Roma e come detto una magra consolazione perché purtroppo nessuno restituirà la vita Luca Rosi e siamo a Ponte Felcino ancora cronaca col coltello tentano la rapina presa la gang una perugina tra i fermati per l'aggressione all'ospite dell'ostello di Ponte Felcino ma con la nazione andiamo anche a vedere la polemica politica della turbopensione così definita a Presidente della Regione Marini sul bloc di Grillo Liberati attacca sul ruolo di Legap Cop e dice io sono in aspettativa non retribuita proprio come la Ceprini la Ceprini che è una parlamentare Umbra dei Cinque Stelle e poi la prossima settimana è atteso un vertice tra i tre presidenti delle regioni Umbria Marche e Toscana per l'ipotesi di una maxiregione interviene su questo tema Angela Leonardi consigliere comunale che dice l'Umbria deve essere accorpata alle Marche consigliere civico convinto con Lazio Toscana sarebbe un disastro questo per quanto riguarda l'ipotesi geopolitica e amministrativa l'importante è che si risparmi perché altrimenti è solo come dire una partita di risico super sconto per il Natale siamo al messaggero per chiudere le pagine perugine già pronti 50 negozi pressing su Sipa per i parcheggi a prezzo ridotto gli affitti vanno giù intanto del 15% col canone concordato modifica il protocollo per battere la crisi allerta furti ecco le ore di punta l'indagine del messaggero che ci dice le statistiche la questura e il carabiniero indicano il picco degli assalti nelle tre ore che vanno tra le 18 e le 21 e non in piena notte intanto il titolo che domina la prima pagina società sportive fatture nel mirino della finanza controlli tra i dilettanti dopo l'inchiesta con 26 indagati in alto Tevere andiamo a vedere i comprensori e partiamo dal giornale dalle pagine di Foligno nel dettaglio varchi elettronici per il centro a partire dal mese di marzo sostituiranno le transenne mobili l'obiettivo è aumentare l'uso delle bici intanto i migliori vini dell'Umbria domani a Palazzo Candioti presentazione della guida Slow Wine che farà di Foligno il centro del mondo enologico arrestato a Foligno intanto spaccio di eroina uno dei principali pusher mentre a Spoleto domina ovviamente l'inchiesta sull'olio Coricelli indagine trasferita proprio a Spoleto decisione della procura di Torino ipotesi di un nuovo reato lasciamo il Folignate saliamo in Alto Tevere centro arte contemporanea c'è il via libera città di Castello sarà affidata alla fondazione Albizini avrà sede a Palazzo Vitelli e poi nuovo Cinema Castello giovedì l'apertura tutto pronto per la restituzione della sala mentre a Umberti de Scuola 14 borse di studio ad 800 euro per i più meritevoli siamo a Legubino Gualdese corsi post laurea alla Lumsa ieri abbiamo aperto il nostro TG proprio con la firma del nuovo accordo con il Comune siglato il protocollo di intesa Comune Università di Ocesi nuova sede all'ex seminario recuperata una come dire una delle falle che risalivano agli anni scorsi Maggio Gubino alla scoperta del sentiero Francescano scade oggi il termine per l'iscrizione alla passeggiata di 14 km di domenica da via Maggio a Sansepolcro e poi da Gualdo Presciutti basta polemiche sul mio conto il sindaco troppe accuse infamanti sul mio conto e quello del Comune si è più volte oltrepassato decoro ed educazione lasciamo il giornale con uno sguardo alla pagina di Assisi e Bastia con Bastia torna e sporegalo con una formula tutta nuova quest'anno saranno presentati 500 stand nuove dislocazioni grande spazio a due eventi collaterali questo per il giornale andiamo al Corriere e ripartiamo in questo caso da Assisi proprio da Assisi stavolta con l'incubo ladri incubo ladri in particolare a Ponte San Vittorino residenti radio telefonica chiede al sindaco un passo indietro sull'antenna e scrive a Bergoglio e Mattarella lasciamo la Sisano saliamo in Alto Tevere la cattedrale rimessa nuovo accoglie stasera i fedeli oggi le celebrazioni per i patroni Florido Amanzio e Donnino presiede il solenne pontificale sarà il cardinale Bertello quartieri Prato e Mattonata consegnate ai cittadini dopo il completamento dei lavori di pavimentazione dalla seconda pagina i ladri devastano una casa e rubano di tutto a Umberti nell'amaro sfogo di una vittima dopo la razzia intanto è eseguita l'autopsia sull'uomo deceduto a Molino Vitelli nell'Umbertidese era di San Giustino Feliciano Bellani morto martedì mentre lavorava la costruzione di un pozzo artesiano siamo a Gubbio anche qui la Lums torna in città il titolo di apertura del Corriere dell'Umbria accordo tra Comune Diocesi e Università intanto festa nella casa di riposo Mosca per i cento anni di una nonna ospite e poi bella per raccontare la donna il 25 novembre l'iniziativa di Terra Comuni con concorso fotografico che vedrà le premiazioni il prossimo mese di febbraio da Gualdo dalla convenzione con Rocchetta arriveranno benefici a tutta la città lo assicura il sindaco Presciutti che difende le scelte della maggioranza sulla durata della concessione intanto tanti studenti coinvolti nell'iniziativa Gualdolio con le visite ai Frantui e agli Uliveti e la grotta di Monte Cucco a Costa Ciaro tocca quota 3.500 sono i visitatori che in consistente aumento quest'anno hanno visitato queste splendide architetture naturali sotterranee Foligno i varchide da ZTL saranno attivi soltanto a marzo lo dice l'assessore Belmonte commercianti intervenuti all'auditorium promessi anche altri aggiustamenti e sull'ex zuccherificio la mozione del sindaco non passa gelo in consiglio comunale le assenze in casa PD non fanno raggiungere il quorum della votazione insomma c'è maretta su questo tema spaccio di droga tra le vie del centro trentenne arrestato dai carabinieri e per lo spettacolo anche Daniele Silvestri sceglie Foligno per la data zero del suo tour intanto Radio Rai trasmetterà il concerto per il centenario della grande guerra importante traguardo per gli amici della musica finisce in rete il mistero dell'impronta di fuoco il gruppo di studio The X Planet per due volte nel monastero di Sant'Anna ora pubblica l'immagine della mano morta lasciata da suor Teresa gesta uno dei tanti misteri che appassionano i telespettatori infine un'occhiata alla pagina di Spoleto c'è la frode dell'extravergine inchiesta trasferita il PM è il noto magistrato torinese Guariniello l'indagine si allarga fascicolo trasmesso per competenza proprio a Spoleto lasciamo anche il Corriere andiamo alla Nazione ripartendo anche qui da Assisi con la vicenda dell'antenna del camminaccio comitato che non demorde fa esplodere la protesta in televisione sarà presente su Rai 3 a Ambiente Italia a Gubbio firmata la convenzione l'Umsa torna in città intesa tra comune diocesi e università corsi al via dal prossimo settembre intanto fumata bianca sull'ex sirio ecologica che viene venduta all'asta la giudicazione per ora è provvisoria concessione a Rocchetta rioferge insorgi il comitato attacca il primo cittadino che intanto dice non accetta offese sulle critiche nei suoi confronti acqua buona per tutti entro il 2016 lo dice il sindaco di Citerna Falaschi il potabilizzatore verrà ultimato nei prossimi sei mesi un'opera da 3 milioni e mezzo destinata al trattamento dei flussi dalla diga di Montedoglio intanto nasce il centro di documentazione di arte contemporanea città di Castello che oggi festeggia i patroni Florida Manzio spazio alle fiere 415 bancarelle in centro campagna comunale contro la contraffazione e l'incauto acquisto questo per le pagine dell'Alto Tevere da Foligno commercianti ordinanza antismog ma per Natale ci serve una deroga dicono Bastida in caso contrario Bastida è il presidente di Confcommercio siamo pronti a un'azione di protesta e inchiesta sull'olio anche la nazione se ne occupa atti alla procura spoletina mentre è un giallo la frana di San Giovanni Profiamma ormai da anni c'è il semaforo a regolare il traffico in una zona che poteva essere bonificata e ripristinata da tempo il quadrilatero dice lavori iniziati ma l'ANAS non ha fatto il bando insomma è un vero giallo chiudiamo questa panoramica con il messaggero con i comprensori anche dal quotidiano romano partendo da Gubbio l'odissea quotidiana di 50 studenti sono quelli costretti ogni giorno a farsi appunto un avere proprio di sea in autobus per raggiungere città di Castello e frequentare l'alberghiero questo anche perché non è stato attivato un indirizzo alberghiero a Gubbio nonostante una richiesta reiterata di più anni 100 km di tante spese di disagio ogni giorno per andare all'alberghiero Cavallotti di città di Castello a Gualdo le giornate dedicate all'extravergine mentre a città di Castello Fiere di San Florido caccia all'affare con il messaggero diamo un'occhiata anche alla pagina di Foligno che apre con i commercianti rischiamo un Natale senza luminarie in centro si restringono i contributi pubblici e quindi si corre velocemente al riparo servono 150 imprese disponibili a mettere a disposizione 100 euro e l'Umbria in un bicchiere si apre a Palazzo Candiotti con lo Slow Food protagonista lasciamo anche il messaggero diamo un'occhiata alle pagine dell'economia e della cultura per chiudere questa prima parte di rassegna partiamo dal giornale dell'Umbria che parla di Luxury Kashmir che vince con creatività e impegno l'azienda di moda di Ripa Bianca come paradigma delle eccellenze intanto sempre per l'economia andiamo al Corriere dell'Umbria abbiamo visto una nota positiva sulla sanità ma c'è anche il ticket sanitario che ha un costo procapite sopra la media nazionale secondo le rilevazioni fatte dalla Will di Terni si parla spesso che non aumenteranno i ticket in Umbria ma a quanto pare sono già abbastanza alti e poi attenzione alle mail truffa e non veritiere su avvisi di pagamento di Equitalia verificare sempre è difficile che Equitalia vi chieda i soldi per e-mail lasciamo le pagine dell'economia diamo un'occhiata a quelle della cultura per chiudere e salutarci in questa prima parte di Rassegna lo facciamo col giornale dell'Umbria quattro sax folli e geniali concerto alla sala dei notari del Signum Saxophone Quartet ospiti dell'associazione amici della musica intanto torna a splendere il portale gotico della cattedrale di città di Castello mentre sta arrivando la rivoluzione dei Negramauro per gli appassionati di questo complesso pop davvero in auge il tour fa tappa al Palevangelisti invece per i più come dire un po' attempati certamente l'occasione è quella di apprezzare le canzoni entrate un po' nella storia della musica leggera italiana di Umberto Tozzi che incontrerà i suoi fan a Corciano dove firmerà il suo ultimo album ma che spettacolo è davvero tutto per questa prima parte di Rassegna pubblicità tra poco parliamo di sport